Allora Maurizio, ecco la testa, la sella testa. Maurizio è stato scelto oggi per fare un test di questa sella. Allora Maurizio, parlaci un pochettino di questa sella. Questa sella non è che è proprio una novità. Sono anni che esiste e solo io all'inizio sono rimasto un po' scettico perché pensavo che era un po' una moda. A dire la verità, oggi è il secondo giorno che io ci esco e devo dire che ieri sono rimasto entusiasta proprio perché questa è stata costruita in maniera proprio da non andare a rovinare la prostata del ciclista. A livello estetico non è che sia tanto bella perché ha proprio queste forme particolari proprio per evitare questa compressione della prostata. Ma poi basta facce l'occhio all'estetico, notte che si sa che sta roba qua è roba di valore e diventa bella di per sé. Comunque io ieri mi sono trovato molto bene, oggi la voglio provare un po' in salita dove almeno il corpo ha un'inclinazione tale da vedere proprio se la compressione della prostata è minore.